Ciclismo, atletiche e calcio in primo piano nella pagina sportiva. Cominciamo con il ciclismo perché venerdì, nel pomeriggio di venerdì, scatta da Campi Bisenzio con un cronoprologo individuale la ventitresima edizione del Giro della Toscana Internazionale Femminile. Scocca l'ora del Giro della Toscana Internazionale Femminile, giunto alla ventitresima edizione. La formula vincente è la solita, tre giorni di spettacolo da venerdì a domenica, tre giorni di sfide per stabilire chi sarà la nuova granduchessa di Toscana, chi riuscirà a descrivere il proprio nome in un albo d'oro del poco mondiale, magari scalzando la campionessa sudafricana Ashley Mulman-Pasio, che supportata da una squadra di altissimo livello, la Cervelo Bigla, cercherà un risultato storico, ovvero quello della prima atleta ad aggiudicarsi la manifestazione per tre volte di seguito. Sarà un weekend lungo, ricco di emozioni, iniziative e di grande ciclismo, grazie alla presenza di ben 25 squadre, di cui 13 straniere e 12 italiane e di oltre 175 atleti, un record. Le nazioni rappresentate saranno ben 30, con la novità di una rappresentativa messicana. In totale le girine dovranno percorrere 257 chilometri, il cronoprologo di Campi Bisenzio, le temibili Segromigno in Piano Porcari-Segromigno in Piano di 133 chilometri e la Lucca-Capannuri di 121 chilometri. Le maglie ufficiali in palio saranno invece la rosa, riservata alla leader della classifica generale, la ciclamino, classifica a punti, l'azzurra per i traguardi volanti, la verde alla più brava in salita e la bianca alla giovane più promettente, quella può per la migliore straniera. Come sempre il Giro della Toscana sarà dedicato all'indimenticabile campionessa Michela Fanini, l'organizzazione curata dalla società di Papà Brunello. Noi TV seguirà la corsa, proponendovi ampi servizi all'interno del Tigino e Sport e speciali nelle serate di sabato e domenica. Vi do anche gli orari di questi speciali di sabato e domenica alle 23.30. Passiamo all'atletica. Da venerdì a domenica allo stadio adriatico di Pescara si disputano i campionati italiani assoluti, non folta ma di qualità la pattuglia della Virtus, cassa di risparmio di Lucca. Innanzitutto Marcel Jacobs Lamont, che stante il forfè di Filippo Tortu, è il grande favorito sui 100 metri. Del resto il 10.28 di Padova, di pochi giorni fa, depone a favore dell'Italo americano. Ma non solo Jacobs, anche Jan Luksha nel triplo può puntare ad un piazzamento importante, se non addirittura al podio, da capire però quali saranno le sue condizioni fisiche. Cercheranno un posto in finale anche Roberto Orlando nel Giavellotto e Lorenzo Carlone nell'alto. In campo femminile vogliono ben figurare anche i due atleti lucchesi d'occhia, Elisa Naldi del Lungo e la giovanissima, appena a 15 anni, Dea Pieroni nel salto in alto. Entrambe possono far bene e magari ritoccare anche il proprio primato personale. Un incarico prestigioso, quello che ricopre da qualche settimana Elena Bruno, un passato importante da calciatrice, allenatrice ed ora anche direttore generale del settore giovanile maschile e femminile della Lucchese. Sono molto felice, ha commentato Elena Bruno nel suo ufficio allo stadio Porta Elisa, della fiducia che la società rossonera ha riposto in me. Ed ora una notizia davvero brutta, sempre dal mondo del calcio. Il mondo del calcio piange Lorenzo Clavo. Pensate, aveva solo 26 anni. L'ex portiere di Cararese, Messina Eullese e Realforte Querceta, se n'è andato per una terribile malattia. Era massese ed aveva giocato nel campionato di eccellenza nella stagione 2011-2012, proprio anche con la maglia del Realforte Querceta. Ed ora andiamo al Givi Borgo, torniamo sul calendario uscito in queste ore per analizzare quello che attende gli uomini di Pagliuca, soprattutto nelle prime giornate. Calendario scomodo e avvio in salita per il Givi Borgo. La squadra di Guido Pagliuca esordirà infatti sul campo di una nobile decaduta del torneo, l'Aquila Montevarchi, protagonista per tante stagioni in Serie C. L'abbrivio del Brilliperi non sarà certamente agevole per i bianco-rosso-azzurri, anche perché a quelle latitudini il tifo è da sempre molto caldo. Detto che per inciso, prima o poi vanno affrontate tutte, come ha ribadito lo stesso Pagliuca, che comunque denota grande fiducia, alla seconda il calendario ha subito regalato un derby. Allo stadio delle Terme di Banni di Lucca salirà infatti il Viareggio, che in quanto a Blasone non è seconda a nessuno. Negli ultimi anni le due squadre si sono affrontate in più occasioni, con un bilancio sostanzialmente in equilibrio. Curiosità anche per la sfida targata Pagliuca, Guido contro Luigi. Archiviata la gara con le Zebra, la terza a Givi Borgo di Scena al Pozzi di Seravezza, contro i Verde Azzurri dell'ex Walter Vangioni. Un Seravezza che si propone come possibile mina vagante del campionato, e dunque interlocutore davvero ostico. Per il resto il derby con il Real Forte Querceta, a cui l'ex di turno sarà Elia Chianese, è fissato alla tredicesima giornata. Altre sfide da segnalare contro alcune delle favorite. La sesta arriverà al Ponsacco, mentre alla dodicesima, il 14 novembre, il Givi ospiterà la Lianese di Pacifico Fanani, altro ex illustre, magari già nel nuovo Carraia. Il 23 dicembre, ultima del girone di andata, con trasferta sul campo del Gavorrano, l'altra grande favorita del torneo. Sei in totale turni infrasettimanali previsti e sole due soste, per capodanno in occasione della Via Reggio Cup. Poi tutto d'unfiato verso il 5 maggio, quando calerà il sipario. Inutile dire che l'obiettivo del Givi Borgo rimane una salvezza tranquilla, togliendosi magari qua e là qualche soddisfazione. Ancora medaglie per la nazionale italiana di tiro a volo, guidata dal capannorese Albano Pera, campionato del mondo di Chiongwong in Corea del Sud. Silvana Stanco, del gruppo sportivo Guardia di Finanza, ha vinto la medaglia di bronzo e con questo risultato si è giudicata anche la carta olimpica. Qui la vediamo appunto con il nostro Albano Pera. La squadra italiana Lady, formata da Silvana Stanco, Jessica Rossi e Alessia Jezzi, ha vinto l'oro a squadre con il nuovo record del mondo di 343 su 375. Infine nella gara junior maschile Lorenzo Ferrari, 19 anni tesserato con le fiamme oro, si è giudicato la medaglia di bronzo. Tutto è pronto al Palatagliate di Lucca per la quarta edizione del Trofeo Lovari. Una grandissima edizione con le super squadre del basket italiano. Ad aprire il torneo venerdì alle 18.30 il derby tra Milano e Torino. Milano campione d'Italia contro Torino, sulla cui panchina siede il leggendario coach americano Larry Brown. A seguire alle 21.15 un'altra partita di assoluto spessore tra Venezia e Pistoia, vincitrice dell'edizione 2017. Sabato sono in programma le due finali, alle 18 quella per il terzo e quarto posto e alle 21.15 la finalissima. Passione per il basket e senso dell'amicizia, è questo il motto e il ricordo dedicato a Carlo Lovari. Chiudiamo con il tennis. Jasmine Paolini del tennis club Lucca Vicopelago è stata eliminata nei sedicesimi di finale del torneo ETF in Svizzera. A spezzare i sogni della 22enne tenista lucchese è stata l'olandese Bibiane Schufz, testa di serie numero 5 del tabellone, che si è imposta in due set 6-0-6-4. Regalato, meglio non giocato il primo set, la Paolini ha reagito nel secondo, ha reso la vita difficile alla Tulipana, ma sprecando anche una palla break sul 4-4, ma alla fine ha dovuto soccombere. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. Una breve pausa e subito dopo la terza ed ultima parte. Grazie. Grazie.